Un appuntamento super speciale perché parleremo di grandissime novità, anche se in casa di un grandissimo gruppo che conoscete sicuramente già, cioè Gruppo Carmeli. Sono proprio in compagnia del responsabile commerciale Massimo Brunelli. Parlaci del vostro gruppo e delle vostre novità. Ciao Rosi, buonasera a tutti. Gruppo Carmeli, abbiamo otto sedi sui nostri territori di Brescia, Cremona e Bergamo. Abbiamo marche ufficiali Renault, Dacia, Nissan e oggi siamo qua per presentare il nostro new entry che è DR. La presentiamo in anteprima nel nostro salone di San Zeno Naviglio, presso la sede Nissan e a breve avremo una struttura dedicata di oltre 500 metri quadrati solo al marchio DR, prossimamente qui a 100 metri da questa sede, sempre a San Zeno Naviglio, dove poi avremo anche la nostra officina dedicata al brand. Una grande novità, perché è una grande novità l'ingresso del marchio, del brand DR nel vostro gruppo, ma c'è una grande novità anche proprio qui sotto, perché è l'anteprima nazionale. Io guarda che sono in questo campo da tanti anni, non l'ho ancora vista e ho il piacere di vederla oggi per la prima volta. La scopriremo insieme a qualcuno che fa parte proprio di DR, giusto? Benissimo, oggi ci ha onorato la sua presenza Massimo Ferla che è l'RZ di DR e ci ha fatto questa sorpresa magnifica per noi che siamo appena entrati nel gruppo portandoci la nuova, la svelo? La svegliamo? Io dico il numero e voi intanto vieni Massimo, guarda ti invito ad entrare, dai svelatela pure, DR 1.0 Eccola, splendida, splendida DR.0 e fra poco, Massimo ti invito a venire qui accanto a me perché io ho il microfono, tu no? Bellissima perché è sicuramente una linea che colpisce ed è una piccola grande vettura, fra poco scoprirete tutti i dettagli insieme a uno dei vostri collaboratori. Vero Massimo, intanto ciao. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Sì, oggi è un grande giorno perché faccio gli auguri al gruppo Carmeli che è venuto a far parte della nostra famiglia, che è un gruppo molto importante per la città di Brescia, la Leonessa, ormai faccio anche la residenza io a Brescia, quindi l'accendo ancora non l'ho perso, però la residenza l'ho cambiata e sono felice perché abbiamo portato qui in anteprima per questa giornata un modello che è molto atteso da tutti i nostri clienti che ci seguono, che è la DR 1.0, un'eccellenza italiana che adesso vi spiegherà il nostro collaboratore, però vedrete che è un'auto che vi darà tante soddisfazioni soprattutto ai consumatori perché è un'auto con 300 km di autonomia e un fast charge, una batteria da 32 kW e mezzo e la grande novità è che ha le dimensioni di una smart for two ma con quattro posti comodi, questo è quanto, però non vi dico altro se no vi levo la sorpresa. Ti passo a te. Grazie Massimo, grazie ancora. Grazie, grazie mille Massimo, allora Massimo, Brunelli direi di dare la parola a Luis e le immagini le dedichiamo totalmente a questa grandissima novità e anche a tutto il resto del marchio di Erner. Grazie. Grazie a te. Buonasera, ringrazio Rosi per la presentazione, sono Luis di Gruppo Carmeli S.P.A. Siamo qui oggi per presentare la nuova DR 1.0 che fa parte del nostro nuovo marchio acquisito DR è un'anteprima nazionale, sarà qui per brevissimo tempo, pochissimi giorni e andremo a breve a illustrare tutte le nostre vetture di DR con caratteristiche tecniche e vedremo anche gli interni di questo nuovo marchio che avrà sicuramente un grande futuro e ci darà grandissime soddisfazioni. Con un carattere sportivo e accattivante, la DR 1.0 si presenta con un telaio in alluminio spazzolato rafforzato. Grazie ai suoi 1.4 kg e le sue batterie a ioni di litio da 32 kW, ha un'autonomia di 300 km. Si può ricaricare sia in box che con il fast charge in 40 minuti. È un gioiello della tecnologia italiana con un motore inverter a magneti asincroni. Quattro posti comodi e un prezzo a partire da 19.900 euro, con una promo di meno 1000 euro per una promo di lancio di casa madre. Con interni in pelle e cuciture in contrasto, la macchina si presenta inoltre con un navigatore touchscreen e cerchi in lega da 15 pollici. Abbiamo dedicato grandissimo tempo e lo meritava tutto all'ultimissima novità tanto attesa DR 1.0, ma non dimentichiamo tutto il resto della gamma DR naturalmente, a partire dalla penultima nata, diciamo che è la DR 3.0. Luis, andiamo a vedere le caratteristiche? La DR 3.0 ha una lunghezza di 4,20 metri. È un Urban SUV con motore da 1.5 di cilindrata, quattro cilindri. È possibile scegliere nella versione benzina e benzina GPL. Ha di serie i cerchi del 17, gli interni con sedili in pelle, il tettuccio apribile elettrico, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio, con Android e DAB, Apple CarPlay. Prezzo a partire da 18.900 euro nella versione benzina, più 1.500 euro per la versione GPL e benzina. Sì, diciamo che il prezzo, la caratteristica di DR è di avere tutto compreso nel prezzo, quindi tutto ciò che è stato descritto è compreso nel prezzo che avete sentito, l'unica differenza è appunto se sceglierete la versione con alimentazione GPL. Ed ora proseguiamo e andiamo a vedere DR 4.0. La DR 4.0 ha una lunghezza di 4,35 metri. Anche qui abbiamo sempre la versione benzina e benzina GPL. Abbiamo tutto di serie, la differenza è il cerchio che passa dal 17 pollici ad essere un cerchio del 18. Prezzo a partire da 19.900 euro. Per la versione GPL abbiamo una maggiorazione di 1.500 euro. Leggermente più spaziosa, passiamo ora alla DR 5.0. È disponibile nella versione con cambio automatico e manuale. Abbiamo un cerchio maggiorato, una mascherina che diventa oscurata e abbiamo uno stemma sul bagagliaio di una dimensione leggermente più grande. Abbiamo un 60 litri GPL e un 50 litri di benzina come autonomia e raggiungiamo e superiamo i 1.000 chilometri nel combinato. Mi sembra molto interessante, Luis, questo vuol dire che se fate un viaggio lungo potete quasi attraversare metà Italia senza dovervi fermare. Il prezzo di questa vettura? La versione manuale parte da 21.900 euro, mentre quella automatica da 25.900 euro. Per l'ammiraglia del gruppo abbiamo DR 6.0, un Voyager SUV con cerchi del 19 e telecamere 3D. Abbiamo qui un 1.500 turbo con 156 cavalli. La versione è disponibile solo con cambio automatico 9 rapporti. Abbiamo un tetto apribile panoramico sino ai sedili posteriori. Come autonomia raggiungiamo facilmente i 1.300-1.400 chilometri. Avete sentito i 1.300-1.400 chilometri di autonomia, ricarica wireless del vostro telefonino, il K-less, quindi potete avvicinarvi alla vettura senza usarla, avete lo start and stop e la vettura potrete anche accenderla da remoto. Pensate, voi siete a casa, potete accendere in modo che si riscaldi o si raffreschi, visto che stiamo andando incontro all'estate, all'assistenza in salita, all'assistenza alla discesa, insomma davvero davvero tantissimi accessori e un prezzo che è incredibile perché parte da 29.900 euro per la versione benzina e naturalmente 1.500 euro in più per la versione GPL. Luis, cosa possiamo aggiungere? DR, una storia tutta italiana. Direi a questo punto che dovete assolutamente venire qui in concessionaria, vi aspettiamo. Carmeli Auto è anche vetture d'occasione e aziendali. Iniziamo con una Mercedes-Benz classe A 160 Sport, 19.413 km del 2021, IVA esposta al prezzo di 25.980 con promo Carmeli, come tutti quelli che vedrete in sovrimpressione. Mercedes CLA, un 200 diesel station wagon, automatic business, 75.000 km del 2018, cambio automatico, è 1.6 euro diesel e il prezzo lo vedete con promo Carmeli. Volkswagen Golf, variant 1.6 TDI, 115 CV, 93.970 km del 2019 a 12.980 euro con navigatore. Citroen C5 Aircross, 1.5 Blue HDI, 130 CV con soli 23.500 km del 2020. Cambio manuale e tantissimi accessori. Fiat Tipo è un 1.3 multijet start and stop a 5 porte, 51.658 km per questa vettura del 2020, diesel Euro 6 con IVA esposta. Alfa Romeo Giulia, un 2002 turbodiesel a 160 CV AT8, quindi col cambio automatico del 2019, con soli 65.000 km. Proseguiamo con Dacia Sandero, Stepway, 78.100 km del 2019, IVA esposta e il prezzo è davvero straordinario. Renault Cajare, un 1.5 Blue DCI, 8 valvole, 115 CV con 108.000 km del 2019, col cambio automatico e l'IVA esposta. Mini Countryman F60, un 2.0 Cooper diesel del 2017, 78.000 km e è già 1,6 euro. Subaru Outback, 42.570 km del 2020, un benzina Euro 6 col cambio automatico e l'IVA esposta a un prezzo davvero straordinario. Ed infine Fiat 500.000 Hybrid, dolce vita, con soli 29.700 km del 2021 a 14.980 euro. IVA esposta. Siamo arrivati al termine di questa puntata della nostra vetrina dell'auto in compagnia del gruppo Carmeli. Ben 8 punti vendita a vostra disposizione, dove troverete, oltre agli storici marchi Renault, Dacia e Nissan, anche da oggi DR, che entra a far parte di questa famiglia. Ricordate anche l'outlet del gruppo Carmeli, dedicato alle vetture a chilometri zero, aziendali e usate. Abbiamo visto alcune first choice durante la trasmissione, naturalmente tutto il resto lo trovate sul sito. Troverete anche, e vi faccio vedere solo una panoramica, delle supercar per quanto riguarda Carmeli Garage. Quindi veramente tantissime auto, tantissime proposte e naturalmente tutte da scoprire, da provare direttamente qui, in uno degli otto punti vendita che trovate appunto allecati sul sito. Un grazie a tutti voi per l'attenzione e alla prossima. Ciao!